Io ho conosciuto Matteo, ci eravamo incontrati una volta per caso, poi un giorno mi telefonano e mi dicevo, non puoi fare il mangiafuoco, come se avessi ricevuto una mazzata in testa, poi dentro Pinocchio, e venne a casa mia e mi portò una mia fotografia, una mia fotografia con Roberto, da Pietro Scott, complimenti insomma, era molto meglio da me, però già mangiafuoco, un po' Rasputin, un po' Russo, e io rimasi incantato da questa ipotesi, fino all'ultimo, adesso te lo posso dire, temevo che non lo facessi più, non lo so perché, anche se è brevissimo, io sono veramente orgoglioso di starci in questo film, lo posso dire io c'ero perché, poi l'ho visto il film, non l'ho visto adesso, l'ho visto quasi dieci giorni fa, quello che ha detto Benigni, non si può che essere d'accordo, poi si è scordato che te e San Giuseppe siete due falegnami, tutte e due, insomma, voglio dire, il mio lavoro è stato quello di adeguarmi al trucco, non so come dire, mentre lo facevo mi rendevo conto che il mangiafuoco potrebbe fare un suo film, è il film di un uomo solo, è vero o no? È un uomo solo che vive con i burattini di legno e all'improvviso si trova un burattino senza fili, nemmeno un uomo, è straordinario, questo che mi ha affascinato del ruolo, ci ho messo quello che ho potuto, insomma, ho fatto di tutto, sia pur breve però sono veramente felice di averlo fatto.